Che cosa significa adattamento ai cambiamenti climatici? L'adattamento è una delle misure che bisognerà adottare insieme alla mitigazione per contrastare i cambiamenti climatici, cioè vuol dire cercare di convivere in maniera positiva, propositiva, con i cambiamenti che sono già in corso o che inevitabilmente arriveranno nelle prossime anni, nei prossimi decenni. Quindi adattamento da una parte e vuol dire, non so, per esempio costruire barriere contro le inondazioni nelle zone che saranno più soggette a mareggiate o all'innalzamento dei livelli dei mari, vuol dire predisporre colture più resistenti alle siccità o alle forti piogge, favorire corridoi per la migrazione delle specie, cose di questo tipo. Accanto a questo c'è la mitigazione, sono due facce della stessa medaglia e nessuna delle due efficace si è presa da sola. La mitigazione vuol dire invece agire sulle cause che hanno generato questi cambiamenti, quindi in primis ridurre le emissioni dei gas a effetto serena atmosfera di origine antropica.